Io sono disponibile a scegliere insieme a Matteo Salvini un Presidente del Consiglio dei Ministri, terzo, che possa rappresentare un contratto di governo nel quale però ci siano le condizioni non trattabili, cioè il reddito di cittadinanza per gli italiani, l'abolizione della legge Fornero per i pensionati, per coloro che vogliono andare in pensione in Italia e una seria legge anticorruzione per ristabilire meritocrazia e per evitare che i giovani se ne vadano all'estero scoraggiati dall'assenza di merito in Italia. Abbiamo offerto al Presidente della Repubblica, consci del fatto che il Paese non può aspettare, che i problemi da risolvere sono tanti, la disponibilità mia, a nome della coalizione che ha preso più voti dagli italiani, a dar vita a un governo che cominci a risolvere tutti i problemi del Paese, dal lavoro alle tasse, dalle pensioni all'immigrazione. confidiamo che il Presidente della Repubblica ci dia modo di trovare una maggioranza che contiamo di poter trovare, mettendoci in campo personalmente e direttamente, perché stanti così le cose, la nostra coalizione è quella che rappresenta maggiormente il voto, la sensibilità, le ambizioni e le speranze di 60 milioni di cittadini italiani. Quindi confidiamo che dalle prossime ore possiamo essere messi finalmente al lavoro. Vi ringraziamo e vi auguriamo buona giornata. Basta prendere tempo, basta traccheggiare, basta esasperare alcune logiche di parte che abbiamo sentito ancora in queste ore. Io direi basta con il gioco dell'oca, perché ancora in queste ore ci pare di vivere questo gioco a ritornare al punto di partenza da parte in particolare di chi ha prevalso il 4 di marzo.